Mister Iervolino, prima sconfitta, tra l'altro di misura, una partita che poteva avvenire con qualsiasi risultato. Che cosa non è andato oggi? Io penso nulla, non è andato nulla, nel senso che è andato tutto bene, però purtroppo stavolta quello che non è andato è la fortuna che ha girato dalla parte sbagliata. Purtroppo oggi è andata così, perché comunque ho visto una squadra, la nostra, una squadra che gioca a calcio, ho visto una squadra che ha provato in tutti i modi di vincere la partita. Abbiamo preso gol dopo 5-6 minuti su una pallina attiva con Micalo, che sapevamo che era l'uomo più temibile, quindi non ho da recriminare nulla ai ragazzi. Ho visto una squadra vogliosa, che aveva voglia di vincerla e soprattutto aveva idea di gioco. Su questo quindi non ho da recriminare nulla. Ci sono state un po' di polemiche nel finale, dal tuo punto di vista c'è stato questo episodio, c'è stato poi nervosismo, che cosa ne pensi? All'ultimo minuto si è acceso un po' di bagarre per un eventuale rigore a nostro favore. A me non piace parlarne, penso solo che potevamo evitare questa bagarre del rigore dato o non dato facendo gol prima. Penso che dalle immagini si può vedere che abbiamo avuto almeno 4 occasioni nitide, poi di fronte c'è un portiere favoloso e ci ha un attimo stroncato le ali. Però il rigore poteva starci o non starci, ripeto, potevamo non arrivare a quel punto. Questo non è un demerito dei ragazzi, ma assolutamente io penso che oggi, ripeto, ci sono momenti in cui la fortuna ti viene e la fortuna ti va. La volta scorsa magari il Procida ha avuto un rigore dubbio contro l'Ischi al 95esimo e stavolta non è andata come l'oro per noi. A me veniva un po' da pensare in apertura di partita che di fronte c'erano due allenatori estremamente tattici e studiosi di questo sport. Il calcio nonostante stiate affrontando un campionato di promozione e chiaramente tu sei giovane, dall'altro lato c'è l'esperienza di Giovanni Jovine. Possiamo dire che è stata una bella sfida tra due squadre che non ci aspettavamo di trovare così in alto in classifica dopo cinque giornate. Sicuramente sì, quello che hai detto sicuramente. Il mister dal canto suo, dall'esperienza decennale, io dalla parte un po' più, dal progresso mio giovanile, cerco di mettere in campo quello che facevo, come lo facevo quando ero nei professionisti, quindi cerco di portare questo. Io personalmente parlo di una squadra che il Procida me lo aspettavo là, non me lo aspettavo più giù sinceramente, perché comunque gli uomini in rosa sono secondo me gli uomini di categoria e di categoria anche superiore. Noi stiamo facendo bene, abbiamo fatto bene fino a oggi, compreso oggi come prestazione. Cercheremo di portare avanti ancora questa striscia, arrivare prima possibile all'obiettivo della salvezza e poi andare in campo con una tranquillità maggiore. Grazie a tutti.